Buonasera e grazie per essere di nuovo con noi a Fattore Bergamo dedicato alla salute. Questa sera parliamo di mal di schiena e lo facciamo con Corrado Musso che è alla mia destra che è responsabile della chirurgia della colonna di Humanitas Gavazzini e con Lucio Genesio che è medico specialista della riabilitazione ortopedica e sportiva di Humanitas Gavazzini. Buonasera entrambi. Buonasera. Perché ci viene il mal di schiena? È una bella domanda a cui oggi rispondiamo solo in parte. La patologia della colonna è una patologia come nella stragrande maggioranza dei casi da stress, da eccesso e abuso per una non qualità di vita perfetta, una alimentazione non perfetta e ci tengo assolutamente a precisare questo aspetto. Sapete che quasi la metà della popolazione è obesa e questo influisce pesantemente sul dato nostro clinico e poi via via oggi lo stress, la sedentarietà a cui siamo sottoposti con le attività lavorative frequenti nella popolazione, questo compromette la biomeccanica della colonna. Su questo aspetto bisogna fare il ragionamento. Quindi una delle cause principali è che la maltrattiamo? La maltrattiamo, esattamente. E invece come dovremmo trattarla? Dovremmo dedicare un po' più attenzione al cosiddetta igiene posturale, poi il collega ci spiegherà bene che cos'è questo argomento, ma importante è mantenere intanto una intensità di attività muscolare con lo sport, con degli atti quotidiani che ci permettono di rispettare l'ecostruttura nostra della colonna e soprattutto di agire attraverso l'alimentazione, attraverso lo sport adeguato ad avere una colonna sempre molto elastica. E' l'assenza di elasticità che poi compromette sul lungo termine e determina questa famosa artrosi. Quando parla di alimentazione, è solo un fattore di peso o anche proprio di alimentazione in sento stretto? E' molto importante la cura con terapia antiossidante, quindi mangiare molta frutta e verdura. Il famoso tricolore di cui sentite parlare in questi giorni con Expo è fondamentale. La dieta mediterranea è fondamentale. Tutto ciò che è abuso è chiaramente contrario non solo alle malattie metaboliche che tutti noi conosciamo, ma anche sulla colonna. Lo stress ossidativo sulla colonna determina una grave patologia del disco e questo è da tenere ben presente. Ci sono però altre malattie che possono provocare o comunque influire sul mal di schiena, in particolare l'osteoperose per la donna ad esempio. Questo è un argomento molto importante, mi fa piacere che sia toccato e come sapete cominciando dalla carenza della vitamina D, che è quasi endemica nella popolazione, soprattutto non in prossimità del mare, crea un'alterazione del metabolismo osseo e oltretutto una difficoltà nel movimento, quindi sulla struttura muscolare. La vitamina D è un enzima importante anche per la muscolatura. L'alterazione osteoporotica poi di per sé e l'osteopenia determinano una variazione di nuovo della forma del corpo vertebrale che come tutte le strutture osse è in continuo modificazione a seconda dell'energia a cui è sottoposta e quindi questo determina l'evoluzione verso la cosiddetta malattia degenerativa della colonna. Quindi la prevenzione sull'osteoporosi e su altre malattie del tessuto connettivale tipo l'artrite reumatoide, le forme di lupus, altre malattie di interesse dermatologico devono essere sempre tenute ben presente dal clinico per la prognosi sulla malattia della colonna. Anche un non perfetto stato di istituto della tiroide può influire sul mal di schiena. Certamente perché l'ipotiroidismo cronico anche se ben trattato dal punto di vista farmacologico determina sempre un'imbibizione dei tessuti legamentosi e di qui la non perfetta funzione del sistema di sostegno della nostra colonna e quindi facilità nel creare una disarmonia nel movimento. Possiamo trascurare il mal di schiena? No, il mal di schiena trascurato si trasforma in un dolore cronico e molto spesso questo dolore diventa particolarmente sentito, diventa invalidante. invalidante dal punto di vista funzionale perché molto spesso ci impedisce di dedicarci a quelle che erano le attività della vita di tutti i giorni o certamente alle attività sportive che magari facevamo prima e questo è un po' un gatto che si morde la coda perché se non mi muovo divento rigido, acquisto peso e questo determina ulteriormente reterarsi del sovraccarico sul rachida. E poi diventa anche molto invalidante dal punto di vista psicologico, insomma il mal di schiena è un sintomo che è percepito come qualcosa di veramente fastidioso per il paziente e i pazienti chiedono aiuto, chiedono di poter eliminare questo sintomo. Il problema è che molto spesso, come diceva il collega, loro in prima battuta si aspettano qualcosa di sintomatico, un farmaco o una terapia che possa essere definitiva sul mal di schiena. Il mal di schiena invece è una patologia che riconosce tante cause, riconosce un sovraccarico e se vogliamo combattere il mal di schiena sul sovraccarico dobbiamo andare ad agire. Quando parlavamo prima di igiene posturale, di che cosa parliamo? Certamente l'igiene posturale è quello di migliorare la propria postura, ma non la propria postura in senso stretto, nel senso che alle volte diciamo dal mio punto di vista c'è un po' un affanno magari nella rincorsa di valutazioni, applicazioni di plantari, di situazioni, invece semplicemente il mal di schiena è legato a lasciarsi andare del nostro tono muscolare, all'acquisto di una stiffness, di una rigidità che semplicemente dobbiamo recuperare, dobbiamo rieducare, migliorare quello che è il nostro atteggiamento nella vita di tutti i giorni, come affrontiamo certi sforzi, come ci sediamo, come stiamo in equilibrio all'interno del nostro lavoro e delle attività fisiche che facciamo e recuperare anche un pochettino quindi uno schema corporeo ideale, una propria eccezione, cioè il corretto movimento che dobbiamo fare per sostenere certe attività. Manio San Gavazzini ha studiato un centro specifico per la cura del mal di schiena, in cosa consiste, come siete strutturati? Abbiamo pensato che essendo una patologia che comporta vari agenti che agiscono nel creare la malattia fosse fondamentale un approccio di tipo multidisciplinare, ecco che mettere insieme il chirurgo, il fisiatra, l'endocrinologo, il radiologo che è fondamentale, il terapista del dolore, insieme nella valutazione del paziente possa portare ad un migliore risultato e quindi riduca quanto più possibile l'errore che è umano nella valutazione del paziente. Quindi tra tutte queste persone la prima persona da incontrare quando si ha un inizio di mal di schiena chi è? È difficilissimo, è chiaro che il paziente in genere incontra o il fisiatra o il neurochirurgo che oggi è quello per voce comune che in Italia si interessa di più di questo argomento, colonna vertebrale, però a nostro avviso non è giusto inseguire uno o l'altro professionista singolarmente, deve essere una valutazione collegiale che permette di ottenere il migliore risultato e il miglior outcome del paziente. Da lei chi arriva? E per far che cosa? Da me arriva il paziente con il mal di schiena, di solito un mal di schiena cronico e arriva un paziente con una richiesta di aiuto e con l'idea di fare delle terapie. Il fisiatra si occupa di medicina fisica e riabilitativa, molto spesso la richiesta è quella di fare della medicina fisica, cioè delle applicazioni. Noi siamo più dell'idea di fare della medicina riabilitativa per il mal di schiena. Arriva un paziente normalmente con un quadro cronico su un terreno degenerativo, quindi su un'artrosi, molto spesso alla base delle comorbidità o dei cofattori appunto magari non precisamente riconosciuti e quindi la valutazione di equip è quella che ci consente in realtà di identificare quelle che sono tutte le cause e poi ragionevolmente di avviare il paziente, perché no, certamente ha una cura quasi sempre di tipo conservativo, ma alle volte di avvalerci della consulenza di altri specialisti che ci danno eventualmente un sostegno di tipo farmacologico oppure di tipo diagnostico, con la capacità di avere il neurochirurgo al nostro fianco che ci dice quale possono essere eventualmente se ci sono le indicazioni e le tempistiche per un eventuale intervento di tipo correttivo chirurgico. Ecco, chiunque soffre di mal di schiena prima o poi arriverà sotto i suoi ferri oppure lui sarà così bravo che potrà fermarsi soltanto da lui? No, diciamo che una minima quota di malati viene poi trattato chirurgicamente. Quali sono i casi che hanno necessariamente il video del chirurgico? Sono le gravi deformazioni della colonna, sono casi di pazienti anche banalmente con delle persone del disco lombare che sperimentano dolori impossibili, invalidanti e soprattutto dei deficit neurologici che possono diventare irreversibili e quindi c'è bisogno per forza di andare a liberare il nervo con tecniche oggi chirurgiche assolutamente minime invasive. Soprattutto sfatiamo questa parola del danno del midollo e della paralisi che tutti rimangono sulla carrozzina che assolutamente per fortuna non è così, sono eventi rarissimi su patologie complesse e oggi la chirurgia è diventata una chirurgia minima invasiva e quindi permette recuperi e riabilitazioni poi anche nel postoperatorio rapide con ripresa della quotidianità e dell'attività sportiva e perché ci tengo a sottolinearlo in modo importante questo aspetto. Questa attività sportiva di quanto deve essere, come deve essere strutturata per una persona normale? Cosa deve fare quotidianamente? Cosa dovrebbe fare quotidianamente? Allora, evidentemente l'optimum sarebbe quello di fare tutti i giorni un pochettino di attività sportiva. Questo spesso non è compatibile con lo stile di vita. Allora, io direi che per quanto riguarda l'attività di allungamento, di tensione, di rinforzo, l'attività potrebbe essere anche quotidiana. Certo, non è che dobbiamo pensare di diventare degli sportivi professionisti, ma riuscire a dedicare anche, io penso, un quarto d'ora, venti minuti, mezz'ora al giorno, troppo. No, io direi che è fattibile. Alla fine un quarto d'ora, venti minuti, su cui inserire due o tre volte alla settimana anche un po' di attività ossidativa, cioè di portare ossigeno ai nostri tessuti. L'attività ossidativa viene fatta stimolando il metabolismo aerobico, quindi facendo un'attività che di fatto è un'attività di tipo aerobico, cioè lungo-lento. Evidentemente devo poi raffrontarmi col paziente, nel senso che un paziente con una lombalgia molto importante non posso pensare di avviarlo, per esempio a fare la maratona, è un lungo-lento certamente, però l'attività di corsa può essere un'attività un pochettino di sovraccarico per le strutture del rachide. A questo punto allora potrei avviarlo a fare delle attività un pochettino più in scarico, nuoto, oppure fare delle lunghe camminate e questo sicuramente potrebbe aiutare a ossigenare i tessuti e perdere anche un pochino di peso, che è l'altra criticità importante in queste condizioni. L'ultima domanda perché il tempo non è mai scaduto, che esami bisogna fare, i primi esami da fare per capire il mal di schiena quali sono? Oltre agli esami generali che lei ha ben sottolineato, studiare anche il metabolismo, quindi valutare se c'è un problema di tipo endocrinologico, tiroide, osteoporosi e quant'altro, è chiaro che oggi la radiologia ha fatto dei passi da gigante con risonanze che ti permettono di intanto non somministrare dei raggi al paziente, di avere immagini oggi perfette con ricostruzioni tridimensionali e poi di lì si parte su diagnostiche più specifiche a seconda di ciò che vediamo. Benissimo, lo spazio a nostra disposizione finisce qui, ringraziamo il dottor Musso, il dottor Genesio per essere stati con noi, grazie a voi per averci seguito e buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.